Io mi chiamo Tommaso, ho 37 anni, vivo a Locarno, sono musicoterapeuta e speaker radiofonico e da quando sono nato ho dei grossi problemi di vista e sono appunto ipovedente. Sono stato il secondo bambino in Ticino a poter essere incluso in una classe di scuola elementare con gli altri bambini e per me è stata una cosa comunque molto bella al momento di inserirmi in una classe di scuola elementare o quando poi c'è stato il passaggio per la scuola media. È chiaro che ci sono stati dei momenti in cui il fatto di avere un handicap ha posto dei problemi, ci sono state delle resistenze anche magari da parte di certi professori che dicevano ma no ma la mia materia tanto lui non può vedere le nervature di una foglia allora esoneriamolo dalla lezione di scienze. Per me è molto importante lottare o comunque salvaguardare i diritti delle minoranze per vari motivi. Uno chiaramente per permettere a queste persone di avere una vita degna ecco ma anche perché secondo me le minoranze quindi la chiamiamola biodiversità umana è una ricchezza appunto dell'umanità e per questo io ritengo che appunto sia importante proteggere queste minoranze quindi avere anche degli organi internazionali o anche nazionali che si occupino di proteggere queste minoranze perché noi rischiamo poi appunto di perdere queste minoranze se non le preserviamo e appunto di perdere questa ricchezza che invece dal mio punto di vista la diversità porta con sé. Mi occupo di andare nelle scuole a incontrare ragazzi e fare dei momenti di sensibilizzazione e anche lì cerco di da un lato sì raccontare come una persona con problemi di vista riesce ad affrontare i piccoli e grandi problemi di tutti i giorni e dall'altro per me è proprio importante che i ragazzi abbiano questa consapevolezza del fatto che le cose si possono fare in tanti modi e che si è o no handicappati in base al contesto quindi se il contesto è più accogliente si è meno handicappati e che chiunque nella vita può avere un momento in cui è lui in una condizione diciamo così di essere l'handicappato ed è per questo che allora è importante che chiunque in fondo si preoccupi di preservare i diritti delle minoranze perché in qualche momento chiunque sarà in minoranza e può trovarsi, chiunque può trovarsi in una situazione di difficoltà di minoranza. Mi è capitato di parlare con una conoscente cieca che si è trovata un po' in difficoltà nel momento in cui voleva sposarsi, doveva firmare delle carte e il funzionario che ha incontrato ha un po' messo in dubbio il fatto che lei potesse firmare di suo pugno visto che era cieca, addirittura si è chiesto se non ci fosse bisogno di un certificato che lei fosse in grado di intendere di volere quando un handicap sensoriale come la cecità non ha niente a che vedere con la tua capacità di pensare, di ragionare e quindi spesso appunto magari sulla carta i diritti sono garantiti ma poi anche solo in base alle persone che incontri e anche non per cattiveria queste persone magari sono solo in difficoltà perché non sanno come approcciarsi a una persona con un handicap e tu ti trovi in una difficoltà, ti trovi anche un po' a sentirti quasi un po' offeso ma l'altra persona forse non voleva però di fatto si incontrano queste difficoltà ed è per questo che anche l'informazione è importante legata appunto alle minoranze e scrivendo canzoni nei testi affronto spesso tematiche anche legate appunto alla parità di diritti, all'uguaglianza e queste cose per esempio ho scritto un brano che si intitola Blind People ovviamente non parla delle persone che hanno problemi di vista ma di tutte quelle persone, di tutti i modi in cui si può essere ciechi nella vita quindi si può essere ciechi perché non si riesce a vedere più in là del proprio naso, si può essere ciechi perché si è accecati dalla sete di potere, dall'odio, da troppe convinzioni diciamo rigide, ci sono tanti modi per non vedere e invece sarebbe bello che tutti noi fossimo un po' più aperti ecco. La società dei miei sogni è una società in cui non si giudica o comunque si giudica molto meno in cui si cerca di vivere e di condividere questa vita e soprattutto una società che sia inclusiva.